Ciao, sono Davide Brandellero dell'articolazione della CR. Il sogno che ho per la C è quello che possa resistere nel tempo e che non venga soffocata dalle mille occasioni di cedimento. Spero che iradi le nuove generazioni, quelli che stanno per entrare, con la bellezza e l'entusiasmo che i nostri educatori, i nostri adultissimi, ci hanno trasmesso e che appunto ci hanno fatto innamorare e investire nell'associazione. Spero anche che l'associazione possa rimanere porto sicuro per chi cerca spazio e tempo per dedicare al dialogo, alla fraternità e soprattutto a un confronto con Gesù. Ciao a tutti, sono Sara Brogliato e sono candidata per il Consiglio di Ocesano per l'articolazione ACR. Il mio sogno è che l'azione cattolica, come ha sempre fatto d'altronde, affronti e riesca a superare le sfide del tempo. In particolare il mio augurio è che grazie all'entusiasmo che si vive all'interno delle nostre comunità e la dedizione e l'amore che gli educatori hanno nei confronti dei ragazzi porti proprio i ragazzi a vivere e coltivare una passione cattolica. La vera sfida è fare tutto ciò all'interno di contesti familiari in cui le dinamiche spesso non sono semplici, però l'augurio è che i ragazzi continuino a crescere conoscendo il dono della condivisione, la forza del servire e il dono più grande che è quello della pace. Ciao, sono Paolo e sono candidato consigliere per il settore ACR. Un sogno che ho per l'ACI è che possa essere un luogo sempre più accogliente, che abbia il sapore di casa, dove ognuno possa essere valorizzato per la propria unicità e che si senta accompagnato in questo cammino condiviso di fede e di esperienze forti. Sono Marina Dalla Vecchia, mi candido per il settore ACR e una sfida per l'ACI credo possa essere l'impegno nel coltivare e mantenere i legami con tutti i soci e non solo, ponendo quindi l'attenzione alle persone perché ogni persona, ognuno di noi è prezioso nella sua unicità. Marco Didonè, candidato consigliere ACR. In un mondo e in una realtà in cui sembra prevalere l'io, spero che l'azione cattolica possa continuare ad essere una palestra di sinodalità, come ci ricorda Papa Francesco. Che l'ACI sia un luogo dove poter camminare tutti insieme per sentirsi e far sentire tutti protagonisti e corresponsabili, portando una testimonianza concreta e autentica dell'essere credenti e credibili nel servizio per e con gli altri. Sono Giulia Franzanna, mi candido per il settore di ACR. Spero che l'ACI riesca sempre a mantenere uno sguardo ampio anche nelle piccole dimensioni territoriali, collaborando con molte realtà che già esistono e ampliando la richiesta di confronto con le persone già attive nei territori. L'ACI non deve essere solo crescere insieme, ma anche un cammino personale che si incrocia con la vita di tutti i giorni. Ciao a tutti, sono Riccardo Lago della parrocchia di Sant'Anna, Unità Pastorale, Rosà, Cusinatti, Sant'Anna, San Pietro e Travettore e mi propongo come consigliere ACR. Un mio sogno sfida per l'azione cattolica sarebbe quello di riunire e dare la giusta luce alle associazioni parrocchiali e quelle di Unità Pastorale. Aver cura e vivere attivamente il territorio locale ci permetterà di conoscere i talenti di ciascuno e farci sostegno e mano tesa di fronte a ogni difficoltà. Ciao a tutti, sono Elisa Sant'Anna e mi candido per il settore articolazione ACR. Un sogno o una sfida per l'ACI? Penso che una sfida per l'ACI possa essere quella di avere la capacità di saper indossare sempre un paio di occhiali che ci permettano di osservare i ragazzi in tutte le loro caratteristiche, siano esse potenzialità o fragilità e, a partire da queste osservazioni, poter costruire dei contesti che siano realmente accoglienti e inclusivi verso tutti e che permettano di tirar fuori il meglio da ciascun ragazzo che ci viene affidato. Ciao, sono Gioia Zanatta e mi candido al Consiglio Giocesano per l'articolazione ACR. Il mio sogno sfida per l'ACI è che l'ACI sia in grado di cambiarsi e rinnovarsi sempre ancorata alla realtà che la circonda. Sono Esther, della ACR. Il mio sogno sfida per l'azione cattolica è quello di vedere questa associazione guardare con coraggio alla realtà di un mondo e di una società che cambia e che sta cambiando tanto e di vedere questa associazione affrontare quei cambiamenti e quelle trasformazioni necessarie affinché possa continuare ad essere un luogo di crescita dove sentirsi custoditi dall'amore di Dio che credo qui si faccia particolarmente presente nelle relazioni con l'altro che sono tutte quelle persone che fanno e sono l'azione cattolica dai ragazzi agli adultissimi e che insieme, penso, possano far fare dei passi importanti anche alla Chiesa inteso come un qualcosa di più grande all'interno di questo mondo che cambia e che si trasforma.